Edder, Mech, Pallister Giuliano, mentre dalla tua parte emergevano certezze sulla colpevolezza di Lewis, il Jeep sembra non pensarla proprio così Io confido nelle cose come stanno andando, il giudice ovviamente vuole delle prove, non sta a me di fornigli Capisco solo che è giusto che ci sia chiarezza, lo aspettiamo anche noi Giuliano, apri gli occhi, Manuela non è una santa Purtroppo è un'attesa lunghissima, è la cosa più incredibile, aspettiamo, dobbiamo aspettare Mancano ormai pochi giorni e poi sarà trascorso un anno esatto dalla morte di Pierina Stiamo aspettando che arrivi quel giorno Noi abbiamo altre credenze, altre cose, lo viviamo in una maniera diversa Lewis, la mattina del tuo incidente, forse era dalle tue parti, potrebbe averti dato una mazzata in testa e tu non ti sei accorto di niente perdendo poi oltretutto la memoria? Mi piacerebbe sapere la verità, ovviamente è una cosa che mi ha cambiato completamente la vita Quindi sapere la verità, come è successo, chi è stato, quello lo vorrei profondamente Poi si vedrà, si vedrà se arriverà a me Ho pensato tutte le ipotesi possibili, dall'incidente all'aver subito un'aggressione Ovvio ci pensi, però non sta a me So le conseguenze, quello che mi è stato spiegato anche dalle persone competenti, in questo caso dai medici Aspettiamo, aspettiamo e vediamo Pierina, potrebbe essere stata uccisa perché tu sei sopravvissuto all'incidente? No, sarebbe tristissimo, sarebbe tristissimo, già è triste tutto, sarebbe ancora più triste Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale